Benvenuti cari follower. Prima di entrare nei dettagli vogliamo più di 5.000 like per questa felicissima notizia che tutti gli italiani aspettavano da tempo. Quindi ottime notizie, ufficialmente la fine dell'ondata di caldo in Italia e la fine della siccità, con il ritorno del freddo, del maltempo, della pioggia e dei forti temporali in tutte le regioni del paese. Le previsioni indicano che in Italia arriverà aria molto fredda a partire da domenica e lunedì 18 e 19 agosto 2024. Le temperature caleranno sensibilmente in tutte le regioni d'Italia da nord a sud, con possibilità di forti piogge al nord, al centro e alle anche il sud. Anche nelle prossime ore i temporali saranno molto attivi nel periodo serale, a partire da domani sera, mercoledì 15 agosto, fino alla notte del 17 agosto. Poi, a partire dal 18 e 19 agosto, si è registrato un notevole abbassamento delle temperature con forti piogge e tempo fresco e rinfrescante in tutte le regioni d'Italia. Bisogna quindi pazientare ancora qualche giorno e in Italia finirà il caldo e torneranno la pioggia, il freddo e il maltempo. Restate sintonizzati per maggiori dettagli più avanti.